Salve alle amici dell'altro giornale channel, mi chiamo Nora Stavreva e sono una scrittrice Google, amo profondamente l'arte, sono qui per proporvi buona musica in diretta. Vi invito nella stanza dei talenti a partire dal 25 aprile ogni sabato dalle ore 20 e 30 alle ore 21 e 30. Grazie e buona giornata da Nora Stavreva.